Forza Italia insiste per il suo candidato, però noi a questo punto abbiamo preso le nostre decisioni con la sezione. Ci sono stati dei problemi, è vero che c'è fuoco amico e questo dovrebbe essere intollerabile dentro partiti seri, ma lì ci sarà da lavorare. Detto questo Forza Italia non può che rivendicare l'indicazione del candidato sindaco di Vicenza. Lega e Forza Italia alle battute finali, ai titoli di coda. Salta Vicenza, salta, pure Sandonà potrebbe toccare presto anche a Treviso. E a Bassano quell'accordo è appeso a un filo sottilissimo. Il documento, sottoscritto dai gruppi di opposizione di centrodestra pochi giorni fa, già aveva un valore simbolico, ora rischia di non avere nemmeno più quello. Tanto più che i due partiti di maggior peso si sono detti addio, ognuno per la sua strada e tanti cari saluti. La Lega però è al massimo del suo fulgore, con percentuali destinate a confermarsi alle prossime regionali. A proposito, in Friuli il carroccio farà il botto, mentre Forza Italia rischia di scomparire, è ai minimi storici. Eppure a Bassano gli azzurri perdono i pezzi. Sarà presentata infatti nei prossimi giorni una civica che raccoglierà molti dei fuori usciti dal partito, area Parisi, ma non solo, si annunciano defezioni clamorose. Insomma, il clima è tanto quello di abbandoniamo la barca finché siamo in tempo. Questa volta però i berlusconiani non potranno dare la colpa ai comunisti. Si tratta di una lotta tutta in famiglia.